Riesce a rimanere in piedi, Pjanic, efficace, è qui il portiere che concede qualcosa anche ai fotografi, interviene con decisione, spedendo il pallone in out, Peresic, l'ha messa dentro con una meravigliosa rovesciata. Che gol ha fatto Piero, sai che ci ho provato anch'io qualche volta in allenamento e mi sono alzato tutto rotto. Grande capar di età, hanno voluto davvero questo gol con tutte le loro forze.